Salve, siamo qui alle retrovie praticamente del stand di Tom's Hardware con AK Informatica, PC Hunter, chi ha più ne metta Qui abbiamo Michael Calegari di MSI, faremo qualche domanda, appunto, ciao Michael come stai? Tutto bene, un po' stanco, ormai è di domenica ma... Sì, stai Ma comunque abbiamo visto un paio, diciamo che tutto lo stand è pieno zeppo di marchio MSI Diciamo che comunque sia la tua impronta in questo stand è rilevante in questo senso Sì, abbiamo lavorato tanto con AK e PC Hunter e anche con i ragazzi di Tom's Abbiamo strutturato assieme a Cooler Master che sono un nostro partner molto importante Queste macchine per poter permettere ai ragazzi di giocare Abbiamo strutturato vari tornei di giochi differenti nei tre giorni tra Airstone, LOL, Titanfall Abbiamo inserito anche un simulatore di assetto corsa che è sempre una cosa che piace molto in questi eventi Ma abbiamo visto pure che ci sono delle sedie di SL, quindi abbiamo fatto pure qualche torneo serio, diciamo Sì, ci siamo appoggiati a SL, d'altronde la nostra politica è quella di cercare comunque partner Che riescano a valorizzare e con cui possiamo valorizzarci Per fare comunque un qualcosa fatto bene e non, diciamo, campato per aria Insomma, dare del valore oltre all'hardware che possiamo installare nei computer Ma, io ti dico, guarda che è chicca, no? Sono installate alle 9.80, 9.70 Allora, abbiamo preferito lasciarle fuori da vedere Infatti, come hai visto fuori, abbiamo una nuova scheda Madrix 99 e una nuova 9.70 Questo perché è vero che sono belle da usare, ma sono anche molto belle da vedere Direi di sì, ma comunque, diciamo che la Games Week è molta folla, come sempre Che ne pensi tu di questa Games Week del 2014? Guarda, io devo essere sincero, è la prima volta che la faccio da detto ai lavori E non mi aspettavo sinceramente una risposta di pubblico così elevata Ieri è stato veramente, credimi, un delirio Però fa piacere vedere che il proprio lavoro fatto durante l'anno Ha una risposta così da parte dei ragazzi che vengono qua Sono curiosi, vogliono sapere, provare e ci inondano di domande Abbiamo provato quindi un paio di ragazzi Ah no sì, facciamo entrare le persone per poter provare Anche solo guardare le modding che abbiamo esposto Insomma, abbiamo fatto un bel lavoro e la folla là fuori ci dice che abbiamo fatto bene Abbiamo avuto ragione a fare così Vabbè, io ti ringrazio per questa intervista Ci vediamo il prossimo anno con qualche altro evento sicuramente MSI Kingdom Game, ciao